Buongiorno, il mio nome è Adriano Cremonese e tengo i corsi di italiano per stranieri presso l'Università Popolare di Torino. Poter parlare la lingua del paese in cui per necessità o per scelta uno straniero ha deciso di vivere è il primo e fondamentale strumento di integrazione nel nuovo tessuto sociale in cui si trova inserito. Parlare l'italiano è lo strumento fondamentale per potersi integrare in questa nostra società italiana e torinese e poter perseguire e realizzare in modo efficace il proprio progetto di vita. L'Università Popolare viene incontro a tale esigenza con un corso per intermedi rivolto a persone che già comunicano in italiano ma desiderano migliorare i propri mezzi linguistici. Il corso di livello B1 costituisce la naturale prosecuzione del corso di primo livello, rinforza le competenze acquisite nel primo e lo completa nella direzione di aggiungere ulteriori strumenti indispensabili a una più articolata comunicazione in italiano. Scopo finale del corso è mettere i partecipanti in grado di utilizzare in modo corretto i pronomi, capitolo quanto mai dolente per un parlante non nativo, le forme verbali dell'indicativo tralasciate nel primo corso e alcuni usi tipici del condizionale. Desidero infine ricordare che l'Università Popolare è sede autorizzata per gli esami CILS e che il corso di italiano fornisce le basi per poter affrontare gli esami del livello B1.